L'inverno è alle porte con i suoi colori, i suoi sapori. Quali sono le iniziative del Parco delle Foreste Casentinesi per questo inverno 2015? Intanto una premessa, noi abbiamo voluto dividere la promozione turistica del Parco Nazionale con le stagioni. Quindi abbiamo estate con noi, autunno slow, inverno e neve natura. Neve natura, quindi tutte le attività che si possono svolgere sulla neve, naturalmente all'interno del Parco Nazionale c'è Campigna, dove ci sono operatori turistici che accolgono tutti i turisti che hanno intenzione di praticare gli sport invernali. La particolarità ormai da due o tre anni è quella delle ciaspole, quindi la possibilità di entrare dentro la natura, nel silenzio della natura, poterne apprezzare i colori, i profumi e i silenzi, naturalmente, in un'immagine che spesso durante l'inverno è davvero da fiaba. Quindi io credo che sia da provare l'esperienza di entrare all'interno delle magiche foreste casentinesi per assaporare quello che è l'inverno e in montagna, in appennino. Chi sono i turisti che di solito apprezzano di più il Parco? Ormai l'offerta è molto diversificata ed anche il target è molto diversificato. Abbiamo tante famiglie, ma abbiamo anche veramente tanti giovani che sempre di più si rivolgono a questo tipo di esperienza per poter in qualche modo entrare in contatto con la natura.